Una miniera di dignite che diventa una miniera di opportunità per creare sviluppo sul territorio. È questo il futuro che si delinea per il sito di Santa Barbara, un'area di 1600 ettari che si estende tra Cavriglia e Figlino Incisa Valdarno. Al progetto già avviato per la riqualificazione dell'area dell'ex miniera, si aggiunge l'iniziativa ispirata al modello Future di Enel, presentato in Regione e che coinvolgerà anche il Politecnico di Milano e l'Università degli Studi di Firenze. Adesso attraverso soluzioni sostenibili e progetti innovativi, la miniera diventerà un'opportunità di sviluppo per tutto il Valdarno. Abbiamo sicuramente l'opportunità di uno sviluppo che sia legato ad attività coerenti con quello che è il programma di sviluppo del Comune, del Valdarno, direi della Toscana. E quindi che possono dare un contributo e legarsi alle potenzialità per il turismo, alla presenza dell'industria e della ricerca. Sì, oggi lanciamo un'iniziativa che credo è importante, un'iniziativa che si va ad affiancare al progetto di riqualificazione della zona miniera e vuole veramente lanciare un progetto che vede schierati insieme, è nelle istituzioni locali, i cittadini, le imprese e il territorio per individuare nuove opportunità di sviluppo in ottica di economia circolare, di sostenibilità ambientale, di sostenibilità sociale per dare nuovi spunti industriali, imprenditoriali in quest'area. È un progetto importante perché l'area mineraria è una delle aree più vaste, direi, di tutta Italia da riqualificare e credo che questo progetto dà un valore condiviso a tutto questo processo di trasformazione e ricordo che l'area mineraria è stata volano, trainante per l'intera comunità, non solo di Cavriglia, ma direi dell'intero Valdarno. Con il supporto del Politecnico di Milano e degli Skateholder del territorio con l'Università di Firenze, entro dicembre 2017 verranno definiti possibili scenari di sviluppo compatibili e integrati ai progetti già esistenti con studi mirati sul contesto economico e urbanistico del territorio. A partire da questo ci sarà invece una fase di coinvolgimento degli studenti dell'ultimi anni di architettura e di urbanistica del Politecnico di Milano e dell'Università di Firenze che tradurranno le proposte progettuali in proposte tecniche anche con aspetti di fattibilità economica da parte dei nostri colleghi di Ingegneria e Gestionaria del Politecnico di Milano. A gennaio poi verrà lanciato un concorso di progetti e le proposte verranno valutate da Enel, istituzioni e mondo accademico per verificarne l'idoneità rispetto allo sviluppo sostenibile di tutto il Valdarno.